Succedono due fatti dai quali si può capire che io forse, forse ce la farò. Allora io vado a insegnare in una scuola media inferiore, supplente, faccio il supplente poche ore, perché mica avevo il posto di ruolo, stavo preso. Allora che cosa faccio? Io insegno, poi studio per fare i concorsi per le abilitazioni, perché mica puoi diventare professore senza essere abilitato. Prima devi fare le abilitazioni scuola media inferiore, scuola media inferiore, poi andare di ruolo scuola media inferiore, poi andare di ruolo scuola media inferiore, ci sono voluti tre anni. E' chiaro? Per esempio io sono diventato di ruolo nella scuola media inferiore a far tempo o dal primo novembre o dal primo ottobre 63, ci sono voluti circa tre anni per diventare nella scuola media inferiore, e poi dopo un anno o due sarò, non lo so, non mi ricordo, insomma, non ha importanza, non ha importanza. Ecco, allora che succede? Io vado a insegnare e leggo nella rivista ufficiale del Ministero, Cultura e Scuola, che viene obbandito un concorso nazionale per un saggio di matematica al quale possono partecipare tutti i professori di ruolo e non di ruolo, tutti i presidi di ruolo e non di ruolo italiani, un concorso. Io mando un fascicolo di 130-140 pagine, che scrivo così di getto, scrivo di getto e mando questo fascicolo. Capito? Ecco, la Commissione assegna il premio unico e indivisibile a Mare Fiorentini. E' la fine del mondo, è la fine del mondo. Io, se avessero detto i professori di ruolo, era giusto che dicessero i professori di ruolo, noi professori non di ruolo. Invece loro hanno detto, no, ruolo e non ruolo. Io non ero di ruolo, ero passato. Se mettevano di ruolo, io vengo il primo premio. Penso che è stato un bel segnale, no? Eh? Tutta Italia, eh? Tutta Italia. E ricevo quattrini, viene pubblicato, questo in parte. E insomma, è un piccolo successo, diciamo. Dice, insomma, tu sei proprio l'ultimo scarparo. Poi, non è che io ho fatto quello perché un professore mi ha consigliato. No. Siccome io ero noto di detto, è uno che leggeva, e leggeva tutto, è informatissimo di tutto, io sulle cose che conoscevo ho preso l'alto, in realtà, in realtà io ho scritto storico. D'accordo? Primo segnale. Poi, dovevo fare i concorsi di abilitazione, insegnare, seguire all'università. Ma, insomma, ero molto occupato, no? Praticamente passano avanti tre anni senza che c'è niente di nuovo. Devo fare i concorsi, eccetera. Nel 64 che cosa succede? Io seguivo all'università un corso di fichera di analisi, dove ho conosciuto un giovane che stava preparando la tesi con fichera in analisi, che non è la mia specialità, però è qualcosa nella quale io posso capire qualcosa. E allora che succede? Che il mio compagno, insomma, noi seguiamo questa lezione e facciamo amicizia. Poi lui non si prende col professore suo, che il professore suo era non ti faccio, era. Invece il mio amico Pino era molto riservato, non era uno che andava lì a fare elogio al professore, capito? Non gli faceva, era molto riservato e quello non gli va bene e non gli dà la lode, invece quello era bravo, perché voleva più… le donne gli piacevano molto, se erano ragazze, era siciliano, succede carattere, poi forse sono cattiverie che dico io, queste, però insomma c'è questo, allora lui che cosa fa? Lui va a Pisa e a Pisa un professore bravo, gli dà il posto di assistente, perché capisce che questo è bravo e siccome al professore di Pisa interessava la gente brava, la gente ha capito, gli dà il posto di assistente, allora lui diventa assistente, io sono professore di scuola media, però siamo molto legati, poi andremo a Ferrara, va bene? Che cosa succede a un certo momento? Che noi leggiamo nella letteratura che in Canada, a Montreal, c'è un grande seminario di matematica, della durata di un mese, un mese.